Salve a tutti ragazzi, oggi volevo condividere con voi un paio di parole su un sigaro che per tanto tempo è stato tra i miei tutto giorno preferiti e che poi però con il tempo ho sostituito con altro. Stiamo parlando di un sigaro prodotto dalla Mosi, moderno obbificio del sigaro italiano, vale a dire ambasciatore italico il buttero, il prezzo è di 3,80€ per 5 sigari ammezzati. Non lo fumavo da tanto tempo finché non ho visto un recente video di Moreno che ha stuzzicato nuovamente il mio interesse, ero curioso di capire se nel frattempo fosse cambiato qualcosa in questo sigaro e poi soprattutto mi aveva incuriosito l'aggiunta di questa scritta sulla scatola, il primo sigaro italiano con tabacco Kentucky tostato. Allora già vi devo dire che non è che sia cambiato in realtà molto da come me lo ricordavo, per quanto riguarda questa faccenda della tostatura mi sono andato un po' ad informare quella sul web anche leggendo i commenti sotto al video di Moreno e pare che per produrre il buttero il Kentucky venga sottoposto ad un processo simile alla torrefazione e che in questa maniera il tabacco venga reso più rotondo, sicuramente più fruibile ad un pubblico vasto e quindi in sostanza, dico io, il tabacco diviene più ruffiano. Ci ho detto, che cosa vi posso dire in breve? Beh, è un sigaro che a me piace definire acerbo. Perché acerbo? Se noi andiamo a vedere il grado di maturazione indicato sulla scatola, ti prego metti a fuoco, vabbè si vede, sulle 5 foglioline, la classica scala mosi, solo una foglia evidenziata, il che significa che questo sigaro ha una stagionatura più o meno di 3 mesi. È un prodotto che viene smerciato molto fresco ed è forse proprio per questo che è infumata la nota dominante dall'inizio alla fine, perché non è che abbia evoluzione questo sigaro, una nota dominante è proprio quella vegetale, che nei primi esemplari di qualche anno fa era un qualcosa di molto, molto più vicino all'aroma della camomilla. Si sentiva proprio questo aroma camomilloso, fatemi inventare questo aggettivo, che ti rimaneva nelle narici. Ancora oggi si sente in verità, però è una cosa molto, molto, molto più sfumata. Per il resto, gustativamente c'è un delicato bilanciamento tra dolce e amarognolo, a tratti un po' più dominante la nota dolciastra. Per quanto riguarda il resto degli aromi, sono presenti tutti i classici tratti del Kentucky, quindi una leggera pepatura, proprio oggi ci inventiamo le parole. Comunque un leggero sentore pepato, qualcosa di legnoso e cuoio in maniera quasi, quasi impercettibile. È un sigaro decisamente leggero, che veramente può essere fumato a stomaco vuoto in qualsiasi momento della giornata, senza alcun problema. E per il prezzo che ha, ancora oggi è uno degli ammezzati più economici, ha un buon rapporto qualità-prezzo secondo me. Che cosa vi devo dire? Ah, poi la cosa interessante di questo ammezzato è la sua lunghezza. Se voi notate, qui è un po' più lungo dei teatri ammezzati semplicemente perché è un vero mezzo toscano. Spesso e volentieri noi traspuriamo questa cosa. Tutti gli ammezzati che compriamo non è che equivalgano esattamente ad un mezzo toscano, c'è sempre qualcosa in meno. Qua invece, devo dire, in merito della Mosi, viene offerto un vero mezzo toscano, per quanto leggero. A chi consiglio questo sigaro? Beh, sicuramente a chi si approccia al sigaro italiano di Kentucky, ovviamente poi magari accompagnando il buttero con altri prodotti per capire in che direzione andranno i propri gusti in futuro. E ai fumatori più abitudinali, che magari non cercano chissà quali aromi, chissà quali sapori, vogliono semplicemente accendersi un toscano e fumarlo senza impegno, beh, sicuramente il buttero 3,80 euro 5 ammezzati è un buon prodotto. Lo sconsiglio un po' a chi preferisce il lato ruspante, per così dire, del Kentucky e per chi gradisce sapori maggiormente amari. Molti infatti arricciano un po' il naso su questo sigaro ed è comprensibile, è una questione semplicemente di gusti, poi si può essere sfortunati, capita la scatola un po' meno buona rispetto all'altra, però di norma è un sigaro abbastanza costante. Vabbè, a me sembra di aver detto tutto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, anche se non vi piace, sentitevi assolutamente liberi di dirlo, ci mancherebbe. Niente, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!